Sono Fabio Giovanna, mi ritorno a un banco che è stato ideato in un'altra bellissima partita della massima serie con la valutazione successo alto. Questo partita è stato al campo da grandi campionesti, i campionesti, qual è Cinsa Cooper, Lisa Leslie. Però oggi si accendono le luci su una partita che me ne voglio, non me ne voglio, ma le campioneste non saranno da meno. Perché oggi non è una semplice partita di palacanesco femminile, oggi è l'esaltazione di quello che si dica i principi etici dello sport. Oggi la Sicilia, la Orfo Basket con i genitori e Basket Lions, la Contenti Noi, hanno dimostrato a tutti cosa vuol dire fare sport. Hanno dimostrato a tutti che dentro un campo siamo tutti avversari, giochiamo con l'amonismo, ma la vittoria non è tutto. La vera vittoria l'hanno dimostrato loro e che quando un avversario ha bisogno, bisogna tendere la mano, bisogna aiutare, bisogna condividere. Oggi magari il tabellone darà una vicinrice e una perdente, ma in effetti avete vinto tutti. Ha vinto lo sport, ha vinto la bellezza. Genitori e vi ringrazio, avete dato un esempio ai vostri figli di quello che significa essere sportivi, ma soprattutto essere persone. Come diceva il vostro, diciamo, onesti, noi cristiani di questi cittadini, noi dobbiamo dare l'esempio quello che avete dato. Devo dire che la presidenza del Comitato regionale sono molto orgoglioso che questo è un buon esempio, che ormai è diventato un esempio da esaltare, invece di essere una normalità, sia stato dato dalla parola destra. Quindi grazie a tutti, un buon appetito. Grazie a tutti i miei commenti. Velocemente andiamo adesso. Sistettando e osservando le levole del governo, impegnandoci nel vestito del basket, per la gloria del basket, per lo sport e l'onore delle nostre squadre. Grazie a tutti i miei commenti, grazie a tutti i miei commenti, per lo sport e l'onore delle nostre squadre. Prometto di essere sempre in correttezza e disciplina. Prometto di evitare atteggiamenti esagerati e poi rincoraggiando tutte le ragazze allo stesso modo. Questa è la mia amica. Grazie mille, grazie a tutti i miei commenti. Con il numero 9, Serena e Consiglio. Riceverà ora il ragazzo, fatto lo sposo al canale. Con il numero 14, Giorgio Maria Madalazzo. Numero 16, Sofia Linnaco. Numero 21, Vittoria Caracciolo. Numero 22, Dania Tirno. Numero 24, Cristina Paradiso. Numero 26, Guendamina Vacante. Numero 24, Aurora Maria Raitano. Numero 45, Giulia Messina. Numero 46, Dania Stasi. Numero 5, Maria Maria Maissano. Numero 96, la capitana Carlo Zoppalà. Riccardo Contrano Assalto. Poggio Castigliano Rocca. E il numero 5, Giorgio Castigliano. Sicilio Sottogasco. Numero 3, Nati Vedeleone. Numero 5, Cala Pantino. Numero 8, Peglia D'Antiro. Numero 10, Irene. Passerà. Numero 14, Fabibe. Passerà. Numero 21, Marta Alsazza. Numero 22, la capitana Dalia D'Antiro. Numero 23, Carla Macciapa. Numero 24, Marika Azzeretto. Numero 30, Marika Ilesiti. Numero 79, David Iaccio. Numero 81, Angelica Ciasco. Numero 8, Sottogastigliano, Carabinini. Peralo Grande. Mati D'Essana. Magana D'Antiro. Magana D'Essana. Magana D'Essana. Si sente Vicenza D'Avara. Peralo e Sottogastigliano. Mero D'Essana. Magana D'Essana. E ora tutti in piedi per l'Inno Nazionale. Magana D'Essana. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.